Salve amici del Turbo, io sono a proposito lui, è Van Damma, adesso fa delle cose molto ninja Un trucco di magia che mamma mia, o mamma mia mamma mia mamma Comunque il vlog è stato fatto perché ci avevamo voglia, siamo nell'ora di religione Ciao Marti, come stai? E niente, non faremo più che un play, io devo Sì, comunque siamo ancora in classico Stendo overdrive È il miglior vlog che abbia mai fatto in tutta la mia vita 5 per 2,13 Il periodo del barocco era molto importante, c'era il 14esimo che era un prodotto italiano Sto masticando il lago Mi è stato da l'invento, no Cos'è vuoi provarmi? Devi convocarmi? Ciao, no Allora in teori, tremi Mi inviti come i anniti, perché mi direi, devi In teori con me Perché anche i candi e poi c'è il nero che porta il panettone le legano una palla di ferro al piede dovrai portare il panettone non so se è un compagno verde è bello questo compagno perché se infili i soldi nella guancia muore poi se ne prendi uno da 20 fa autismi parlo a nome di orichine parlo a nome di orichine parlo a nome di Nikirin, Gwendarkin, Tairanto, Ika sapiens ludens Ezio Greggio non è lui ragazzi non è lui è solo la copertina è la citazione alla fine abbiamo scritto Ezio Greggio che dice andiamo a comandare e comunque non ho citato Trizio perché lui è nella terza dimensione e niente il vlog è finito perché mi esplode Trizio aspetta devo mettere l'orecchio ma 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 ma